103 controlli e 46 sanzioni compiuti da lunedì scorso sino ad oggi sono l'esito dei controlli della Polizia Municipale predisposti per il contrasto al conferimento irregolare dei rifiuti in città. Nel quadro degli interventi su input del sindaco, Luca Orlando, il comandante Gabriele Marchese ha predisposto un piano che prevede il coinvolgimento di tutte le pattuglie del corpo, a prescindere dallo specifico servizio del nucleo di appartenenza, con puntuali disposizioni operative a tutti gli agenti, coordinati per le specifiche competenze in materia di smaltimento dei rifiuti, dal responsabile del nucleo tutela decoro e vivibilità urbana. Gli agenti hanno effettuato sopralluoghi in abiti civili e autocivetta sia nelle zone in cui è già attiva la raccolta differenziata per verificare il corretto conferimento nei giorni e negli orari stabiliti, sia nei quartieri in cui la stessa non è attiva, in particolare nei siti segnalati dai cittadini e dalla RAP come discariche abusive consuetudinarie. Sulle 46 sanzioni scaturite dai 103 controlli, 19 sono state combinate per conferimento fuori orario, 22 per irregolarità nel conferimento dei rifiuti differenziabili, una per trasporto sfabbricidi, due per abbandono di ingombrante e due per violazioni al codice della strada, per un totale di oltre 6.200 euro. I siti in cui gli agenti hanno combinato il maggior numero di sanzioni sono via Galletti, a seguire Fondo Galletti, via Gorizia, via Messina Marina, via Castello, via Cordova, via Bonanno, via Emilia, via Perpignano, piazza Strauss, via Marchese di Roccaforte, piazza Don Bosco, piazza Florio, piazza Sturzo e via Cilluffo.